I vaccini uccidono, salva tuo figlio, articolo 32, secondo comma della Costituzione, c'è un simbolo W con un cerchio. Tutto il personale, gli alunni e i docenti hanno potuto leggere questa scritta, perché non è stato piacevole, soprattutto in questo momento. Molto rammarico perché al di là del contenuto del messaggio che non discuto, ognuno è libero di avere una propria idea, una propria opinione, è la modalità di manifestazione che condanno, dinanzi ad una scuola dove il messaggio può essere letto da bambini anche molto piccoli, perché qui abbiamo anche il plesso Aldomoro che è il pianeta azzurro che ospitano bimbi molto piccoli dai 3 ai 10 anni, quindi il messaggio condanno, proprio le modalità. Ci siamo subito attivati, abbiamo chiamato i vigili, è intervenuta la Digos, ha fatto dei rilievi e sta procedendo a degli accertamenti del caso, quindi ho chiesto di rimuovere immediatamente la scritta.